Fabio Silva, il futuro è un'incognita, punta su e-commerce e delivery. Lo chef del ristorante Derby Grill di Monza fa il punto sulle attività di impresa. Eventi azzerati e locali chiusi ci hanno spinti al delivery, senza guadagno. Nel frattempo abbiamo dedicato tempo a costruire l'impresa un po' sul delivery, come hanno fatto anche la maggior parte delle persone, che è comunque giusto per dare un'impressione che l'azienda sia sempre aperta. Non l'abbiamo mai chiuso sotto la forma ristorativa. Come albergo abbiamo avuto dei picchi di lavoro grazie a noi nella nostra zona per l'autodromo che ci ha portato ovunque degli eventi che sono rimasti in questo periodo anche di Covid e quindi siamo riusciti ad andare avanti con un po' di lavoro grazie all'autodromo. È un periodo durissimo perché non siamo sostenuti da nessuno come settore e per il futuro stiamo cercando di creare di migliorarci sul mercato e essere pronti nel momento in cui c'è l'apertura e di studiare nuovi sistemi di vendita, soprattutto l'e-commerce. Stiamo espandendo la parte e-commerce perché comunque in prevenzione per il futuro perché non si può mai sapere che cosa può succedere. Grazie a tutti.